...e una realtà diversa, e non c'è che magari non si aveva conosciuto prima, o magari non si conosceva, non si conosceva, ma non si può... Cosa voglio dire? Uno di questo, il piatto che rimandava 40 anni fa, lo svolgono, lo vogliamo tutto, il ritardo degli operai, però vero, dalla parte più consapevole del suo allenatore, è invece praticato di romanzione.